ciao ciao stelline come state? io ovviamente spero che vada tutto 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 molto 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 bene benvenuti o ben ritrovati sul mio canale in un nuovo video che come sicuramente già avete capito dal titolo si tratterà di un try on haul di shane questo video è in collaborazione e devo dire la verità sono sempre più soddisfatta dei miei ordini su questo sito e prima di iniziare vi dico subito il mio codice sconto questa volta è un po' più complicato del solito quindi ve lo scrivo qui e ve lo lascio anche giù nell'info box e in un commento in evidenza e c'è una novità di solito le collaborazioni di shane funzionano appunto con un codice sconto che si può applicare su un ordine minimo tipo di 39 45 euro e all'inizio sono partita con 45 poi mi hanno dato la possibilità di darvi questo codice con una spesa minima di 39 quindi ancora meglio e per questa occasione ossia il Cyber Monday mi hanno detto che non c'è una spesa minima quindi il 15% di sconto si attiva su qualsiasi cifra che voi spendete su questo sito ed è valida però fino al 6 dicembre quindi c'è ancora un po' di tempo e vi consiglio di approfittare perché è raro che non ho mai visto che shane abbia dato la possibilità di applicare questi sconti addirittura senza nessuna spesa minima quindi per queste occasioni ha fatto un'eccezione quindi appunto vi consiglio di approfittare se siete interessati a qualcosa e vi lascio tutti i link giù nell'info box di tutti i capi e accessori che vi mostrerò e partiamo subito la prima cosa che vi mostro è un maglioncino molto sottile con questo collo fatto in questo modo e il colore è davvero bellissimo è questo rosso che sembra quasi un rosso mattone rosso ruggine però molto vivace e mi piace anche la qualità e l'ho anche indossato e come vedrete nella foto nella clip l'ho indossato su dei pantaloni neri a vita alta sapete che adoro i maglioni larghi però questa volta ho deciso di prendere dei maglioncini un po' più sottili un po' più corti che vadano bene sui pantaloni sui jeans a vita alta che porto molto volentieri perché è un capo che adoro e quindi ho optato per qualcosa di più corto per questa volta vi ripeto il colore mi piace davvero tanto e ho preso una S come sempre come vi dico in ogni video vi consiglio assolutamente di fare avvitamento alle recensioni ai commenti alle foto che troverete giù sotto sotto ogni capo d'abbigliamento che adocchiate sotto ci sarà tutta una serie di commenti recensioni eccetera che vi aiuteranno tantissimo nella scelta della taglia siccome mi è piaciuto tanto il modello l'ho preso anche di questo grigio è uguale identico cambia solo appunto il colore vi faccio un po' di fabric sounds e mi piacciono tanto mi è piaciuto tanto il suono della film Bordeaux del mio ultimo try on haul e mi è piaciuto tanto anche a me a pensare ce l'avrei prolungato un po' di più quel suono perché mi è piaciuto tanto poi secondo me i fabric sounds sono un po' sottovalutati è un trigger che si fa molto poco però è molto bello anche questo anche questo ovviamente è della stessa taglia ovviamente se a voi piacciono un po' più larghi ho la visibilità un po' più larga come d'altronde piacciono anche a me così però vi ripeto per questa volta volevo proprio una dei maglioncini che stessero bene come completo su dei pantaloni a vita alta quindi ho scelto la S se vi piacciono più larghi potete però una M una L vi faccio vedere un attimo il mio pezzo preferito per quanto riguarda i vestiti perché c'è anche il mio pezzo preferito degli accessori e tra tutti questi capi senza ombra di dubbio ed è un capo che vi consiglio tantissimo è questa gonna questa gonna è davvero bellissima è in velluto comunque il colore è proprio il colore ruggine ma vi assicuro che dal vivo rende molto molto di più a parte che è proprio morbida e mi piace tantissimo il tessuto vi ripeto ma il colore mi ha subito colpito e come avete notato anche dal maglioccino quest'anno sono impazzita per questi colori l'apertura qui davanti si aprono queste ciampette non a cerniere ma queste ciampette qui davanti e dietro è fatta così sembra corta ma vi assicuro che è giusta e poi come vedrete dalla clip lo la indosserò con degli stivali molto lunghi quindi va benissimo ha tantissime conne molto molto carine quest'anno ne ho comprate le ho prese diverse due l'altra volta e due questa volta infatti la seconda che vi mostro è di un altro colore quest'anno mi sto sto cambiando un po' il mio abbigliamento perchè non sono solita portare le conne devo dire la verità ma ne ho prese già due la volta scorsa e due questa volta e tra l'altro anche i colori come vedete sto spaziando un po' di più rispetto ai soliti capi neri o verdi che mi vedevate prima e infatti la seconda conna oltre a fare un suono che mi piace tantissimo è un po' più corta dell'altra ed è di questo bel colore tipo turchese sembra più verde dal nel video ma in realtà è un po' più verde acqua turchese con turchese verde acqua no? e è tutto a costine e questa è un po' più corta però vi ripeto va abbinata a questi stivali molto lunghi e tra l'altro vi ho già spoilerato uno dei miei accessori che ho scelto e questa volta ha la gonna alla chiusura qui sul lato questa gonna ha la chiusura qui sul lato con questa cerniera e la taglia è una XS questo è davvero un bel colore bene bene se non mi sbaglio però questa era l'unica opzione di questo modello c'era solo questo colore ma ci sono tanti altri modelli che hanno più varianti non mi sbaglio anche se non mi sbaglio non mi sbaglio non mi sbaglio non mi sbaglio di tutto ma ci sono troppo poi vi mostro un capo che ho spunturatamente copiato dalla mia amica Alessia del canale Alessia ASMR a cui mando un bacio grande 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 io ho visto questo un po' di rosa e mi sono proprio innamorata perché è un colore che mi piace, non trovo che mi stia particolarmente bene però è un colore che mi piace davvero tanto 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 soprattutto abbinato al nero e come sapete adoro i body quindi non potevo non prenderlo eccolo qui anche questo ha costine un po' più delicate di quelle della Cune erano molto più marcate questo è bello elasticizzato e ho azzeccato alla grande la taglia perché mi piace tanto la vestibilità e questa è una XS comodissimo e veramente la taglia è perfetta questo se non ero aveva altre due varianti di colori forse bianco e nero non ricordo bene in ogni caso vi ripeto tutti 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 i link saranno giù nell'info box ecco c'è deciso di starci un po' di più su questi suoni anche di questa mi piace la qualità una passione per le costine ormai ve ne siete accorti c'è un acquisto che ho sbagliato questa volta in realtà volevo questa maglia un po' più corta perché nasce un po' come maglia crop e ci avevo fatto caso però secondo me dovevo prendere una taglia in più perché effettivamente è cortina e va benissimo da indossare magari nelle sere d'estate quando non fai eccessivamente canto oppure magari sempre in primavera di giorno ma comunque ora non è il caso perché cortina per l'inverno e ve lo faccio vedere subito sto parlando di questa che è molto se la smette di sflesciare è molto molto carina ha tutto ha questo colo molto particolare un po' strangiato e perché ho sempre le solite magliettine nere quindi volevo variare un po' e la volevo corta vi ripeto nasce come maglia corta questa qui ma l'avrei voluta un po' più lunga è stato un errore mio questa è una 36 effettivamente è piccina dovrebbe corrispondere a XS e sempre costine e la particolarità del collo viene ripreso anche viene ripresa anche sulle maniche vi faccio vedere vedete vedete molto sfracciate era molto carina e mi piace anche devo dire mi piace anche addosso però non la sfrutterò per il momento un po' di suoni anche di questa qui tra l'altro una cosa molto carina è che ogni capo è contenuto in queste bustine che possono essere utili riutilizzabili magari anche da viaggio quando dovete portare qualche prodotto liquido o qualcosa di make up creme poi nuschio eccetera queste bustine possono tornare utili bene ora passiamo agli accessori il primo sia il mio preferito ma ve l'ho già spoilerato nelle clip e nelle foto sono questi stivali che sono contenuti in questo sacchetto ognuno è contenuto in questo sacchetto e veramente non mi aspettavo che fossero così comodi e così belli cioè davvero bellissimi il tacco è giusto perché non volevo né stivali raso terra né volevo un tacco troppo alto quindi perfetto mi piacciono proprio tanto i dettagli guardate e poi qui dietro sono fatti in questo modo hanno questo lacchetto che si può stringere e sono abbastanza lunghi da come vedete da come avete appunto già visto nelle foto nelle clip vabbè come sapete ho il problema con la luce fin quando non comprerò una videocamera il problema ci sarà sempre quindi mi allontano tanto l'avete visto nella clip e questo è un 37 bellissimi mi piacciono davvero tanto poi passiamo agli altri accessori ho preso ho preso diversi orecchini allora questi qui non so se li vedete non so se li vedete sono sono quei orecchini che si mettono qui quindi anche così l'ho preso ho preso anche così poi sempre ha lo stesso stile sempre tutti finti sono perché non ho i buchi qui su ma solo qui l'ho preso anche aspettate vi faccio vedere meglio li ho presi anche così in oro questo è si vede con l'argento poi c'è così e così molto molto carini questi ancora li devo utilizzare li voglio ancora mettere e poi per ultimo sempre in argento ho preso questi e di tutti e tre i set diciamo di tutti e tre i set diciamo non ho ancora indossato niente ho aspettato di farveli vedere perché poi li toglierò da questa carta e niente stelline il video finisce qui spero tanto che vi abbia dato degli spunti per di nuovi acquisti ricordate il codice sconto e tutte le info ve le riscrivo tutte 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 come sempre nell'info box come già vi ho detto e nel commento in evidenza vi mando un bacione grande 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 e a presto fate i bisogni buonanotte buonanotte